Abbiamo anche individuato un percorso per rilanciare e rinnovare il nostro partito con un criterio meritocratico sulla scelta degli uomini che avranno le responsabilità ai differenti livelli. Il Presidente Berlusconi guiderà come evidente che fosse, come tutti gli abbiamo chiesto, questo percorso. Terremo un ufficio di presidenza nei prossimi giorni. In questo ufficio di presidenza stabiliremo quello che è un confronto in atto. Come è noto ci sono posizioni differenti fra un modello organizzativo e un altro. Io sono fra coloro i quali sostiene che il nostro partito abbia bisogno di una classe dirigente legittimata dal basso, dai cittadini e quindi di primarie. C'è chi sostiene tesi diverse, non è un problema, stiamo ragionando al nostro interno e la convocazione dell'ufficio di presidenza che ci sarà nei prossimi giorni servirà a risolvere le questioni. Quindi mi sembra che sia un'ottima riunione, un ottimo passione avanti, come sempre con un partito guidato dal nostro Presidente Berlusconi.